Pronostici di Elimination Chamber 2024, direttamente dall'Australia, direttamente da Perth, terra di Rhea Ripley, Grayson Waller e Bronzo Reed che non ci sarà, un evento che forse è leggermente scontato ma con così tanti wrestler coinvolti nelle varie camere di eliminazione, le sorprese sono dietro l'angolo. Allora il video l'ho registrato ovviamente prima di SmackDown, eh, sia chiaro. Vi ricordo che oggi pomeriggio uscirà anche l'analisi della puntata di SmackDown, ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo con il match per i titoli di coppia, il Judgment Day con i suoi campioni Damian Priest e Finn Balor contro Pete Dunne e Tyler Bate, di cui non ricordo il nome della coppia, che non è più British Strong Style ma è qualcosa tipo catch United Company meeting in the room with Cup of Tea. Comunque sia, credo che a uscirne i campioni saranno quelli del Judgment Day perché vedo già una sfida abbastanza scritta contro R-Truth e The Meats aka Gli Osomtruth, forse addirittura avreste il menia. Mi piace che contro gli Ill ci siano Pete Dunne e Tyler Bate che si sono riuniti da poco ma sono già una delle coppie più in forma della divisione dei due roster, però purtroppo non hanno lo status per tirar fuori la vittoria da underdog e credo proprio che questa contesa sarà sulla falsa riga del tag team match contro Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, dei mestieranti super talentuosi che hanno fatto la fortuna di NXT ma che purtroppo contro il Judgment Day avranno poche chance di vittoria. Infatti dico che vincerà la stable nero-viola, anche se in forma di coppia. Mi sono dimenticato che è stato annunciato Kabuki Warriors contro Candy Slare e Andy Hartwell vinceranno i Kabuki Warriors. Ciao! Sarà un classico match da kick-off per aumentare lo status delle nipponiche, soprattutto perché sono nella faida più importante del roster blu, con Bayley vs Yosuke pronto per il Grand Daddy of Them All. Match per il titolo femminile di Raw, Ria Replay contro Naya Jax. La mami gioca in casa, la mami sembra avere un match già scritto a WrestleMania contro Becky Lynch, spoiler dell'Elimination Chamber, chi lo sa. Quindi credo proprio che sarà un trionfo della campionessa, magari non semplicissimo perché comunque Naya Jax la trattano come il mostro indistruttibile, poi alla fine dubito che metterà le mani sulla cintura, per fortuna. Quindi il regno di Ria andrà avanti, un regno che ha avuto degli alti e dei bassi, ha difeso poco il suo titolo e sembra quasi più una manager, una spalla del Judgment Day, anche se spesso l'ho etichettata come leader, sia chiaro, ma una spalla del Judgment Day slash di Dominic Mysterio, però Laura da campionessa si percepisce, lo status elevatissimo si percepisce, è indubbiamente la donna più in forma del pianeta, come personalità, come star power e tutto ciò che volete. Vedremo una giga riptide ai danni di Naya Jax, la schianterà al suolo, farà esplodere l'arena, il suo pubblico di casa e tutti noi. Saremo felici per questo risultato, quindi possiamo andare oltre, possiamo andare all'Elimination Chamber femminile, Becky Lynch contro Bianca Blair, contro Liv Morgan, contro Tiffany Stretton, contro Naomi, contro Raquel. Mi sembra che ci sia una chiara favorita in questo match, ossia l'irlandese Becky Lynch ce lo stanno praticamente spammando in faccia da diverso tempo, poi magari ci stanno sviando e non vincerà lei, però onestamente di favorite lì dentro, a parte Becky Lynch, ci potrebbe essere l'Evergreen, Bianca Belair, oppure Liv Morgan, ma boh, anche perché chi ha lo status per sfidare Ria Ripley in questo momento, a parte D-Man, credo nessuno. Mi stupisce non vedere Jade Cargill nella contesa, ma credo che anche per lei sia già pronto un match contro Bianca Belair a Vrestelmania, dunque sarà un'Elimination Chamber dall'esito abbastanza banale? Chi lo sa, sanno sorprenderci, però in questo caso è difficile trovare una real contender per quel titolo, che torna AJ Lee, si inserisce a caso? Ne dubito, oppure lanciano Tiffany Stretton come dei pazzi appena dopo il suo debutto nel main roster. Nah, non credo, non credo ragazzuoli e quindi passiamo all'Elimination Chamber maschile, quello che presumo sarà il main event per una shot contro Seth Rollins a Vrestelmania, 40, Bobby Lashley contro Drew McIntyre contro Kevin Owens contro LA Knight contro Logan Paul contro Randy Orton. E anche qui mi viene da dire risultato scontato vince Drew McIntyre, però rispetto all'Elimination Chamber femminile lo star power mi sembra molto ma molto più elevato, ai Randy Orton che potrebbe vincere qualsiasi contesa in cui è inserito, ai Bobby Lashley che bene o male, anche se è in una faida col Final Testament e probabilmente potremo vedere un'interferenza durante questo match che gli costerà l'eliminazione, ha comunque lo status per vincere. Hai Kevin Owens che ha Kevin Owens, hai LA Knight che è la superstar più over dell'ultimo anno, hai Logan Paul che ha 90 sul nuovo videogioco e quindi lo prendono in considerazione però è già campione quindi ne dubito. Insomma, sono tutti i potenziali sfidanti di Seth Rollins, però il favorito come detto è Drew McIntyre che ha cariato un po' questa Road to Vrestelmania nel roster rosso, prima spronando Cody Rhodes a fare la scelta giusta, poi giocando sull'infortunio di CM Punk, sarebbe un replay di qualcosa già visto contro Seth Rollins, ma è anche l'unico che ha un trascorso con Seth Rollins recente perlomeno, a parte LA Knight, sì scusate, a parte Logan Paul. Bisogna anche vedere cosa faranno fare al visionario perché un tag team match insieme a Cody Rhodes contro The Rock e Roman Reigns nella notte 1 di Vrestelmania sembra abbastanza previsto, ma rientra da un infortunio al ginocchio. Vediamo, vediamo. Che The Rock si infili in qualche modo in questa contesa rubando il posto a qualcuno e sfidando Seth Rollins per il titolo la vedo dura, anche perché lo stesso The Rock ha confermato la sua assenza dal premium live event in Australia. Drew McIntyre trionferà? Presumibilmente sì, però non capisco la storyline di Sami Zayn che vuole diventare a tutti i costi campione a Vrestelmania, ma non ha sfidanti, non sta puntando a nessun titolo. Perché non inserirlo in questa contesa? E soprattutto attenzione al Money in the Bank di Damian Priest. Quindi a prescindere dal vincitore di questa contesa e dal nuovo number of contenders al titolo di Seth Rollins, c'è sempre un signor Money in the Bank pronto ad incassare. E non mi sembra una possibilità così remota vedere Damian Priest uscire campione del mondo da Vrestelmania, oppure uscire sconfitto per colpa di The Rock magari che si intromette nel match di Seth Rollins. Oh, un casino, un casino incredibile. Però non lo so, mi spiace solo che Bronsor Reed non ci sia davanti al suo pubblico di casa, davanti a amici e familiari. Ma vabbè. Dunque ragazzi, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti i pronostici di questa Elimination Chamber 2024 in Australia. Vi ricordo che l'ho registrata prima di SmackDown, quindi non so se cambieranno qualcosa, non so cosa succederà nello show blu. E ci sentiamo oggi pomeriggio con l'analisi di SmackDown e parleremo di eventuali cambiamenti e poi domani con l'analisi del premium live event. Grazie mille a tutti per essere passati. Ciao! Ciao!